In mattinata la nostra Ellaria Tettamanti ha intercettato anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a margine di un convegno sulle tematiche economiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Cambia la risposta al titolo di questo convegno perché il Paese può farcela alla luce di quello che è successo. Io rimango convinto che il Paese sicuramente può e deve farcela. Torniamo al Consiglio federale della Lega Nord che si è svolto nella sede di Via Bellerio sabato pomeriggio al termine del quale il segretario federale Roberto Maroni ai nostri microfoni ha spiegato tutte le modalità del prossimo congresso e di tutto il processo per l'elezione del prossimo segretario della Carroccio. L'aria Tettamanti. Stabilite le modalità per il congresso. Sì, abbiamo tenuto il Consiglio federale che ha accolto la mia richiesta di fissare il congresso federale il 15 dicembre, domenica 15 dicembre all'ingotto di Torino. Altresì ha accolto la mia richiesta di estendere a tutti i militanti la possibilità di partecipare al voto, non solo quelli che hanno cinque anni come un certo domenica ma quelli che hanno un anno di anzianità e saranno 18.000 persone che voteranno una settimana prima il 7 di sabato 7 dicembre, saranno aperte le sezioni in tutte le province e i militanti parteciperanno al voto. Nella giornata precedente il congresso, cioè il 14, tutte le urne saranno portate a Torino e lì ci sarà lo spoglio che indicherà il nome del segretario federale che il giorno dopo il congresso eleggerà formalmente. Questa è la decisione che è stata presa, sono soddisfatto perché era quello che avevo annunciato, era quello che volevo ed è la prima volta che in Lega succede l'elezione diretta del nuovo segretario federale. Mentre altri partiti come il PD si accaniscono sui cavilli, sulle regole, sugli equilibri e sugli equilibrismi noi diamo la voce al popolo della Lega, diamo la voce a tutti i militanti, ai giovani ma non solo perché per la prima volta ci sarà l'elezione diretta. Chi potrà candidarsi? Tutti quelli che hanno, come dice lo Statuto, almeno 10 anni di anzianità e il Consiglio federale ha deliberato che la candidatura sia accompagnata da un numero di firme tra 1000 e 1500, non meno di 1000 e non più di 1500 firme. Essendo 18.000 gli aventi al voto potete calcolare quanti candidati si possono avere, certamente più di uno. Quindi comincerete subito a raccogliere le firme? Le candidature si dovranno depositare entro il 30 di novembre, sabato 30 novembre, le candidature e quindi da qui al 30 novembre due mesi di tempo per raccogliere le firme e chi vuole candidarsi. E poi il 7, ripeto, 7 di dicembre, sabato 7 le primarie o le elezioni da parte dei militanti, il 14 lo spoglio a Torino e il 15 il congresso che discuterà la linea politica e l'elezione del nuovo segretario federale.